Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Questa sera non sono qui per farvi una recensione, ma sono qui per raccontarvi, per darvi delle mie impressioni su un'esperienza che ho avuto modo di vivere oggi pomeriggio. Molti di voi lo sapranno, molti di voi no. Oggi ho deciso di andare a incontrare un mio collega youtuber, che è un mio vecchio iscritto, che è Giovanni Dioguardi, che ne approfitto per salutare. Sono andato a trovarlo in quella che chiama lui la sua umile dimora, che in realtà è una casa bellissima, mi è piaciuto moltissimo la sua casa, mi ha fatto vedere dove vive, mi ha fatto vedere la sua collezione e devo dire che ne sono rimasto particolarmente entusiasta. Ne è scaturito un video, un video che voi trovate sul suo canale, che si chiama appunto Giovanni Dioguardi, come lui, vi invito ad andare a vederlo, ve lo metto qui sotto nel link in descrizione, perché in questo video io ho buttato avanti delle idee per quanto riguarda anche il mio canale e vorrei che voi mi daste la vostra opinione, le vostre idee a riguardo. Quindi andate tutti a vedere il video che ho fatto insieme a Giovanni sul suo canale, approfittatene anche per dare un'occhiatina al suo canale, che è fatto molto bene. Giovanni è una persona molto preparata, che se ne intende moltissimo di disegni, anche lui nella sua vita ha fatto dei disegni che oggi mi ha fatto vedere e che mi hanno proprio sconvolto, perché veramente è molto molto bravo. Non so se li faccio ancora, ma quelli che mi ha fatto vedere sono molto molto belli. E quindi cosa vi posso dire? È stato cordialissimo, sua moglie di gentilissima mi ha fatto sentire a casa, mi ha trattato benissimo, una persona molto umile, una persona che merita il successo che ha. Comunque una persona con i piedi per terra, molto educata e molto molto professionale. Quindi il mio parere, adesso che ci ho parlato 6-7 ore oggi pomeriggio, veramente sono rimasto a casa sua ad oltranza, abbiamo parlato di fumetti. Lui con Tex è veramente una persona che ne sa. Mi ha detto dei retroscena di Tex, delle storie, dei disegni. Mi ha parlato di disegni sui migliori disegnatori di Tex, su Galeppini. Abbiamo parlato tutto il giorno di fumetti, della nostra passione. Praticamente è stato un bel confronto. Ho imparato moltissimo da lui, quindi vi consiglio di iscrivervi al suo canale, di seguire tutti i suoi video, perché veramente è uno che ne sa. Da YouTube trapela un po' meno questa cosa, però di persona veramente è una Bibbia, soprattutto con Tex è una Bibbia. Parla molto, cioè è un personaggio che ha un buon eloquio, si ascolta volentieri, racconta delle vicissitudine anche di quando comprava i fumetti da ragazzo lui, che io non ero neanche nato, quindi mi ha raccontato tanti aneddoti, tante cose che gli sono successi nella sua vita, sempre cuocere nel mondo dei fumetti, è veramente un personaggio molto molto interessante. Quindi se avete anche lì cose da chiedere sui fumetti e delle curiosità su dei fumetti anche degli anni 60, come possono essere il piccolo Ranger, il Capitano Black, eccetera eccetera, Giovanni è uno molto competente. Adesso, come potrete vedere anche dal video che abbiamo fatto insieme, io in mente di, terrò sicuramente i rapporti con lui, sicuramente lo andrò a trovare ancora nel tempo e mi inventerò probabilmente qualcosa per fare in modo che tutta questa sua cultura, che traspare poco da YouTube, venga in qualche modo tirata fuori di più. Quindi magari andrò a trovarlo, faremo un altro video insieme, farò un video con lui, in modo da dare tutto ciò che Giovanni sa, da arricchire culturalmente anche voi di ciò che lui sa, perché veramente è una persona molto molto preparata. Oggi mi ha lasciato a bocca aperta. Vi invito quindi ad iscrivervi al mio canale, ad iscrivervi al suo canale e lasciatemi iscritto sotto nei commenti di questo video cosa, se mi volete aiutare, insomma cosa potrei fare per appunto sviluppare l'idea che ho avuto e che enuncio appunto nel video che ho fatto con Giovanni. Quindi ho fatto questo video soprattutto per dirvi questo. Se avete l'idea per aiutarmi, ditemelo anche sotto questo video insieme, oltre che sotto il video di Giovanni. Ne approfitto ancora per ringraziarlo, ciao Giovanni, sei stato carino, sei stato gentile, educatissimo, sei una persona fantastica, quindi ti ringrazio della giornata che mi hai fatto passare, anche tua moglie, la torta era buonissima e spero di venire a trovarvi al più presto. Per tutti voi seguite me, seguite Giovanni sia su Facebook che su YouTube, a me seguitemi su YouTube e soprattutto su Instagram, ho messo una piccola storia su Instagram con me e Giovanni insieme. Iscrivetevi Copiosi perché su Instagram io riesco a fare le dirette, riesco a fare le storie, quindi ho un rapporto molto più attivo con voi e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!